Ciao ragazzi, ben ritrovati in questa seconda puntata del corso base di Photoshop. Allora, nella prima ho iniziato a spiegarvi un po' la base, diciamo, degli strumenti, ovvero la freccettina che troviamo in basso a destra, che cosa permette di fare, ovvero di vedere i vari sottomenu. Abbiamo guardato principalmente i primi strumenti utili per modifiche fotografiche, vi ricordo che questo corso è rivolto esclusivamente, in maniera un po' generica, alle modifiche fotografiche e non grafiche, quindi vari strumenti, tra virgolette, inutili, le andremo a saltare, ed oggi continuiamo appunto con la nostra palette degli strumenti posta alla sinistra del software. Allora, abbiamo strumento bacchetta magica. Come scorciatoio vediamo che abbiamo il tasto W e come alternativa, quindi come altro strumento selezionabile, sempre con la W, abbiamo lo strumento di selezione rapida. Allora, come potete chiaramente intuire, anche perché soprattutto lo strumento bacchetta magica è molto famoso fin dai tempi dei tempi, questi due strumenti servono, con un semplice click, di andare a selezionare delle zone della nostra fotografia. Allora, non le selezionano bene, non le selezionano male, nel senso che non sono l'ideale per fare uno scontorno particolarmente preciso. Ad ogni modo, dopo il corso base di Photoshop vi mostrerò anche come fare degli scontorni molto precisi, poi vedrete perché e vedrete come, però almeno così abbiamo una piccola infarinatura di vari strumenti e andiamo a vedere sostanzialmente le differenze che ci portano questi due strumenti che in realtà sono anche molto simili. Allora, prima di tutto selezionando per esempio lo strumento di selezione rapida, vediamo che nella parte superiore abbiamo il nostro menu dello strumento, quindi sostanzialmente abbiamo la possibilità di selezionare tra queste tre icone. Come vi ho già fatto vedere per le selezioni nella puntata precedente, io generalmente tengo sempre l'icona primaria, ovvero nuova selezione. Questo significa che se noi andremo a cliccare potremo andare ad aggiungere automaticamente tutti i vari aspetti in più, quindi selezione in più. Vediamo che una volta che abbiamo fatto questo strumento, cliccando una volta solo abbiamo fatto questa selezione, ricliccando andiamo ad aggiungere delle parti e vediamo che l'icona diventa quella con il più, che possiamo chiaramente anche far visualizzare tenendo premuto il tasto Shift per ogni strumento, mentre con il tasto Alt andiamo automaticamente a selezionare, guardate qua in alto, la parte con il meno, quindi andremo ad eliminare delle zone. Allora, lo strumento di selezione rapida come potete vedere funziona principalmente a clic, ma sostanzialmente nel modo più preciso a trascinamento, ovvero una volta che noi clicchiamo seleziona un'area, poi per esempio tenendo premuto il tasto Alt andiamo a togliere altre zone. Come va a farle sostanzialmente? Lui le va a fare seguendo tutti i contrasti e le linee che riesce a riconoscere all'interno della fotografia. Nella parte centrale diciamo del menu dello strumento abbiamo chiaramente la possibilità di modificare la dimensione e la durezza, gli altri valori sono poco importanti e come scorciatoia per fare questo lavoro ci basterà tenere premuto il tasto Alt e il tasto CTRL sia su Mac che su Windows e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse andando su e giù modifichiamo come possiamo vedere la durezza del nostro tratto, quindi se porteremo una durezza al 100% avremo proprio un contorno netto, mentre se la porteremo verso lo 0% avremo una sfumatura nei bordi del nostro tratto. Mentre a destra e sinistra come potete vedere modifichiamo invece il diametro, quindi la dimensione del nostro pennello. Alt più CTRL, è comodissimo. Quindi facciamo per esempio un click e selezioniamo, vedete, questa zona che effettivamente ha una tonalità di colore, una tonalità di sfumatura molto molto simile e quindi lui riesce a creare una sorta di contorno, di selezione. Ora qui abbiamo altri aspetti che però generalmente sono poco utilizzati. Ad ogni modo, selezionando campione a tutti i livelli, nel momento in cui noi avremo più fotografie sovrapposte una all'altra, ed ecco perché vi dicevo che non serve moltissimo, lui andrà a fare una selezione complessiva, mentre togliendo la spunta da campione a tutti i livelli andrà a fare la selezione solo sul livello in quel momento selezionato. Ora abbiamo solo un livello che è il livello di sfondo, per questo vi dico serve a poco. Poi abbiamo un miglioramento automatico. Un miglioramento automatico semplicemente va a fare un piccolo ricalcolo una volta che abbiamo selezionato per vedere se si può effettivamente andare ad aggiustare un po' meglio la selezione o meno. Come vedete questo strumento, ovviamente anche da come dice il nome, selezione rapida, va bene solo esclusivamente per zone molto molto contrastate. Quindi per esempio potrebbe tornare utile se avete fatto una foto a una modella sul fondo bianco e il fondo è veramente bello bianco, bello illuminato, allora lì magari per pulirlo il fondo potreste provare a selezionarlo in quel modo. Però vedete che in zone più complesse fa fatica, per esempio qui nella strada bene o male riesce a fare una selezione ma la zona qua dell'ombra non riesce a vederla, quindi non avremo mai una selezione proprio precisa. Infatti selezione rapida, va bene insomma per contrasti molto elevati. Poi andando avanti abbiamo invece bacchetta magica. Bacchetta magica funziona esattamente allo stesso modo, quindi tenendo la prima iconcina selezionata, cliccando più volte abbiamo varie selezioni, mentre tenendo premuto il tasto shift aggiungiamo ulteriori selezioni alla selezione iniziale scusate la ripetizione, mentre con il tasto alto andiamo a eliminare delle parti di selezione. Bacchetta magica non funziona a trascinamento, funziona a click, quindi ogni volta che cliccate andrete a fare una nuova selezione. La differenza con lo strumento di selezione rapida è il fatto che abbiamo sostanzialmente la tolleranza. La tolleranza è un valore che si può impostare, per esempio facciamo 30 e vediamo che ora seleziona tutta questa zona. Ora deselezioniamo e facciamo 2 e vediamo che seleziona solo questa zona, quindi diciamo che è meno tollerante alle sfumature, ai giochi di luce, ai giochi di ombre, insomma tutti gli elementi. Chiaramente più alzate la tolleranza, per esempio a 40 e più avrete porzioni selezionate. Vediamo che qua bene o male non fa una selezione completamente sbagliata, però questo muro in teoria per noi ha una tonalità differente di questo balconcino. Quindi qui possiamo o con il meno, quindi tasto alt, provare a toglierlo, ma vediamo che ci va a togliere tutto, o altrimenti semplicemente abbassare la tolleranza finché riusciamo a trovare il pu... ecco, vedete in questo caso abbiamo messo la tolleranza a 30, abbiamo selezionato il muro e ha selezionato anche il balconcino e dopo però con il tasto meno, quindi tenendo premuto il tasto alt, abbiamo eliminato il balconcino in modo piuttosto agevole. Quindi allora questo è uno strumento che vi ho fatto vedere per correttezza, però come vi dicevo per le selezioni non si usa proprio tantissimo, a meno che avete contrasti molto molto elevati e presenti. Poi il prossimo strumento da guardare assolutamente è la famosa taglierina. Allora in questo caso salteremo tutti questi tre strumenti, ovvero ritaglio prospettiva, sezione e selezione sezioni, perché a mio parere in fotografia non servono praticamente a nulla per fare un editing basico. La taglierina funziona in modo abbastanza semplice, ovvero quando la selezioniamo vediamo che ha selezionato tutti i margini della nostra immagine. Trascinando semplicemente le maniglie, insomma gli angoli presenti appunto nella taglierina possiamo andare a fare una selezione e se poi pigiamo su il tasto V, quindi di conferma, andiamo a tagliare la fotografia. La cosa bella della taglierina è che se noi impostiamo per esempio nella rondellina, quindi quindi nelle impostazioni. Mostra area ritagliata, vediamo tutta la zona senza neri diciamo. Se togliamo la spunta, come potete vedere, ci va a tagliare direttamente l'immagine, chiaramente non è una cosa buona perché non vediamo quanta immagine abbiamo tagliato, quanta porzione, quindi vi consiglio di lasciarla selezionato. Se abbiamo anteprima centro automatico, sostanzialmente abbiamo una centratura immediata dello strumento e poi abbiamo per esempio abilità oscuramento ritaglio che semplicemente serve a oscurare leggermente la parte che ritagliamo, questo può essere abbastanza utile. E poi abbiamo chiaramente la modalità classica che sostanzialmente va a riavere la modalità precedente dei vecchi Photoshop, ovvero siamo noi a creare una selezione vera e propria, a spostarla qua e là e dopo a fare conferma oppure annulla. Questo sceglietelo un po' in base ai vostri gusti, io generalmente mi trovo abbastanza bene con questa però dipende molto dall'immagine che andiamo a selezionare e che dobbiamo ritagliare. Una cosa abbastanza interessante appunto di questa funzione è senza ombra di dubbio questa spunta, ovvero elimina i pixel ritagliati. Se noi togliamo la spunta e andiamo per esempio a fare un ritaglio come in questo caso, una volta che riselezioniamo il nostro strumento e ci riclicchiamo sopra, vediamo che possiamo recuperare in qualsiasi momento parti della nostra immagine. Quindi sostanzialmente l'immagine non viene veramente ritagliata, viene solamente tolta, messa da parte, non ce la fa più visualizzare. Poi se noi salviamo l'immagine rimarrà ritagliata, però anche alla fine delle nostre modifiche possiamo sempre eventualmente andare a fare una piccola correzione. Io generalmente, anche se chiaramente occupa più spazio a livello proprio di Photoshop, vi consiglio di tenere la spunta tolta, quindi non avere la spunta in modo da poter sempre eventualmente tornare indietro. Ed ora vediamo la parte a mio parere più interessante dello strumento taglierina, ovvero le proporzioni. Ho già avuto modo di spiegarvi un po' cosa sono nei brevi tutorial che vi ho fatto vedere su Camera Raw e sostanzialmente cliccando sul menu a tendina che troviamo qui all'inizio, vediamo che abbiamo, principalmente, vi faccio vedere le cose principali. Allora, proporzioni originali, ovvero se voi avete una foto, per esempio 2x3, semplicemente vi terrà quella tipo di proporzione. Ergo, avrete stampe possibili da fare perché mantenete sempre la stessa dimensione delle immagini, nonostante vari ritagli più o meno invasivi. Avete poi chiaramente il formato square, quindi l'1x1, ovvero formato quadrato, il 4 quinte, 5 settimi, 2 terzi che è quello classico per le reflex, oppure il 16 noni. Ora, prendiamo 16 noni. Vedete che sostanzialmente rimane sempre in proporzione, sul rapporto, insomma, di 16 noni. Quindi creiamo sempre un ritaglio proporzionale. Altro aspetto piuttosto interessante, a mio parere, dello strumento taglierina è quella di poter modificare, qui sempre nel menu a tendina, L, quindi larghezza per altezza per risoluzione. Quindi selezioniamo, vediamo che si aggiunge anche un nuovo selettore dove sia possibile scrivere. Mettiamo, per esempio, non so, 30 cm per 20 cm con risoluzione di 240. Qui possiamo mettere pixel pollici oppure pixel centimetri e sostanzialmente abbiamo il nostro bel ritaglio, anche in questo caso. Quindi se dovete andare in stampa e via dicendo, vedete che ha modificato sia la risoluzione, ha modificato chiaramente i valori di dimensione, ovviamente adesso ingrandendola tantissimo mi sembra abbastanza ovvio, però possiamo sempre fare questo tipo di modifiche. Quindi quando voi lavorate, per esempio, su un RAW originale e dovete andare in stampa in un certo modo potete assicurarvi di avere, per esempio, la misura perfetta. Anche se generalmente vi consiglio di lavorare, piuttosto che in larghezza per altezza per risoluzione, in rapporto, in modo che mantenete la massima risoluzione possibile e chiaramente tenete sempre l'aspetto corretto, quindi due terzi oppure quattro sesti. Chiaramente per invertire le proporzioni si può cliccare su queste freccette. Se invece fate cancella, sostanzialmente avrete una selezione completamente libera, quindi libera da qualsiasi vincolo, da qualsiasi tipo di rapporto. E diciamo che su questo abbiamo detto tutto. Ora, altra funzione, ultima funzione dello strumento taglierina è raddrizza la fotografia. Quando noi cliccheremo su questo strumento si creerà una sorta di righello con cui sarà possibile selezionare una riga, per esempio la linea di orizzonte, e automaticamente Photoshop ci consiglierà la rotazione ideale per mantenere appunto dritta la linea che abbiamo selezionato. Quindi molto semplice. Poi andiamo avanti, vediamo anche lo strumento contagocce principalmente, perché tra questi strumenti non vedo altro che potrebbe tornare utile per la modifica delle fotografie. Lo strumento contagocce è utile nel momento in cui andiamo per esempio a fare delle piccole correzioni di colore, anche piuttosto invasive, magari anche utilizzando dei pennelli. Quindi potrebbe essere il caso anche di realizzazioni di fotografie fine art, dove c'è una componente di post produzione riguardante anche il digital painting. Anche queste sono cose che andremo a vedere poi nei tutorial avanzati nel corso del tempo. Lo strumento contagocce ha come scorciatoia il tasto I. Sostanzialmente a cosa serve? Ora questa è una foto in bianco e nero, quindi conterà poco, ma è molto semplice da capire. Con un semplice clic possiamo andare a selezionare il colore nella zona. Quindi vediamo che abbiamo sostanzialmente già un'anteprima nella fascia superiore del nostro cerchio che ci dice che colore, o in questo caso che tonalità di grigio, è quella che stiamo andando a selezionare. Una volta che rilasciamo nella palette dei colori, quindi in questa qua, abbiamo quel colore, esattamente qua il colore selezionato. Quindi molto semplice, però può tornarvi utile per fare alcune regolazioni, alcune scelte di colore. Forse un ulteriore strumento che potrebbe, volendo tornarvi utile, sarebbe strumento campionatore colore. È un po' più complesso da utilizzare, però spesso, soprattutto in editoria o comunque per modifiche molto precise, si va anche ad utilizzare. Ovvero ogni volta che voi cliccherete, sostanzialmente selezionerete, come potete vedere in questo pannello che si apre automaticamente, 1, 2, 3, 4, i valori RGB dei colori selezionati. Questo può tornare utile se dovete fare dei confronti tra un punto di fondo e un altro, insomma cose un po' più precise. Poi lì sono talmente semplici questi strumenti che veramente non si può non capire come utilizzarli. Per il resto, onestamente, non c'è nulla di particolarmente utile per quanto riguarda la fotografia, quindi andrei a passare oltre e chiaramente ci vediamo alla prossima puntata, dove andremo a vedere probabilmente quelli un più ricercati, soprattutto per la post-produzione, ovvero il pennello correttivo, il pennello classico e soprattutto il timbro clone con tutti i vari sottomenu. Quindi io vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce!